Musica Musica Oh, hai visto la nazionale nel 17 che ha detto il mondiale? Dai, quella sarebbe la nazionale, ma è scandalosa Sì, perché? Scusa Ma dai, da quando c'è un ragazzo nero in nazionale? Sì, ma sbaglio o sei straniero pure te? Sì, però non sono nero Eh, ho capito, ma se sono in nazionale si saranno meritati il posto, no? Eh, boh, però dai, questi ragazzi hanno preso il passaporto una settimana prima del mondiale, non si possono vedere Sì, ma a me sembra una bella nazionale, oltretutto sono pure forti Debe, te che ne pensi? Mambo Ti qualcosa Andiamo Mary Andiamo Oh, ma che cavolo fai? Ma non mi rompre Ma non vedi che stiamo giocando? Ma cosa vuoi? Non mi interessa Perché l'hai fatto? Perché era nero E quindi? Bianco contro nero, il gioco degli scacchi Non mi piace il colore nero, cosa c'è? Oh, state tranquilli, dai Sti cavoli, stiamo giocando, no? Non mi interessa, non mi piace il nero Oh, dai, basta, 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 dai Ma chi è il nero? Tranquillo Stai tranquillo, basta Ma mandalo via questo tuo amico Dai Oh, sediamoci qua Oh, Debe, dìgli agli altri che giochiamo anche noi tra posto Oh, Veli, hai visto il nuovo questo dell'Inter? Ok, Inter, non me ne frega niente l'Inter Sennò com'è? Ma dai, non mi rompre, lasciami stare Non vedi che sono incazzato? Eh, ok È a posto, è Veli È a posto? Sì, sì, è a posto Vado a giocare Che fai, te non vieni? No Ma dai, non fa la sfigazza, vieni Eh, vabbè, vai te, no? Eh, allora stai seduto Oh, dai, ragazzi, incominciamo a giocare Vai io, io, Remi e Debe contro voi tre Dai, inizia Sì, Remi Sì, sì, quel lì E ancora Il Debe Oh, io penso che vado a giocare Ok, ti aspetto al bar Sì, sì, ok, va bene Ciao, ciao Ciao ragazzi Posso giocare? Non mi chiederò a lui però Cosa c'è? No, vai via Ma vuoi solo giocare? Ma no, non puoi giocare Oh, cosa fai? Oh, tutto bene Oh, ma lasciala stare, vieni a giocare No, non si fanno queste cose Ma lasciala stare, vieni a giocare Ma sei fuori di testa Dai, non rompere Oh Ma tu stai scherzando cosa? Però ti dirò che sta diventando un po' pesante La scuola, gli esami, lavorare, arrivare a casa, gli hobby Ci credo Tra l'altro, hai sentito della LeLandy? Ma penso che si sono lasciati Cosa ne pensi? Voi? Mary? Mi senti? Oh! Mary? Ehi! Sì, scusa Cosa è successo? Ma niente Preveri Cioè Guarda, io devo scappare perché ho allenamento Però ci sentiamo in Skype, va bene? Ok Entra però Mi raccomando, stai tranquilla Ciao 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 Mary, com'è? Ehi Sì, dai va Te? Sì, sì, tutto bene Ma mi spieghi cosa è successo oggi? Ma Ma con Belly non funziona più Come mai? Hai visto il suo comportamento di oggi Con Aurélie? Sì E il tatuaggio che ha fatto? Più passa il tempo, più peggiora Diventa sempre più razzista Ma forse è il caso di fare una pausa, no? Eh, non lo so È entrato in Facebook Ci sentiamo dopo Prova a scriverli Ciao Ciao Se mi piace il tuo tatuaggio È ovvio che non mi piace Basta, Belly, basta Ah, il negro Il negro Si chiama Aurélie Che merda? Sto dicendo che devi finirla di comportarti in questo modo Mi vuole lasciare Offline Ma va Ho provato a parlargli E com'è andata? È uscito Non mi ascolta Non ce la faccio più Ma gli hai detto quello che pensi? Sì, ma è uscito da Facebook Fa proprio l'indifferente Dai, cerca di stare tranquilla e pensaci bene Poi ne parliamo domani a scuola Beh, allora ci sentiamo domani Sì, domani Buonanotte Ok, dai Buongiorno prof Ciao Giulia, tutto bene? Eh, non tanto bene Come avrà sentito Abbiamo dei problemi in classe con Velibor Diventa sempre più razzista Ce l'ha con le persone di colore Dice che non sono veri svizzeri Ne parleremo in classe Stiamo trattando un argomento Che si presta bene a una discussione sul tema Stai tranquilla Sì, domani Bene, ci resta poco tempo, ma vorrei comunque discutere con voi di questo filmato sulle persecuzioni naziste degli ebrei nel gatto di Varsavia. C'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito? Dimmi. I bambini, perché loro non hanno fatto niente di male e devono pagare per gli altri. In realtà anche gli altri non avevano fatto niente di male nel gatto di Varsavia. Adesso vi faccio vedere alcune immagini. Una prima foto dove vedete una famiglia con la caratteristica stella di Davide, che era il segno distintivo per indicare le persone che dovevano essere arrestate e deportate. Una seconda immagine che riguarda proprio un bambino nel quale vedete il numero tatuato sul braccio. Le persone venivano registrate in questo modo nei campi di sterminio prima di essere uccise, dove erano eliminati semplicemente perché qualcuno pensava che non fossero veri tedeschi. Oh, Debe, Debe, venivi qua? No, vieni. Vado con loro. Ah, ma che scuola. Andiamo a casa. Ehi. Ehi, Debe. Eh, la nonna non si vede, no. No. Eh, appunto. Come è andata la lezione? Come è andata? Eh, ma non bene, non bene. Non bene, ok. Io con quella roba lì mettere la schietta anche. Ah, sì, no. Il logaritmo è la nostra roba. No, a parte di scherzare, andiamo a mangiare un paio di torno. Ho visto, ho visto col dietro, tanta roba. Ho visto, contro contro il bar. Ma andiamo a mangiare il panino. Eh, noi stiamo parlando di car... Eh, ma non mi interessa, beh. Vabbè, andiamo a parlare nel bar, dai. Eh, ecco. Ma va bene, ma vuoi il panino. Basta, Veli, basta. Devi finirla di comportarti in questo modo. Se mi piace il tuo tatuaggio, è ovvio che non mi piace. Sbaglio, posso estradire il tuo eterno. Vado con loro. Con loro. Con loro. Con loro. Con loro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.